La campagna elettorale si svolta a passi di danza di K-pop, la musica popolare della Corea del Sud e oggi più di 44 milioni di aventi diritto sono andati alle urne per il rinnovo dell'Assemblea Nazionale il Parlamento Sud Coreano composto da 300 membri importante test politico per il presidente Yeon Suk-yol che secondo i primi exit poll ha perso Penso sempre che votando ciascuno dei nostri voti ha un potere davvero enorme la speranza è che non sia più una lotta politica tra partiti ma l'elaborazione di leggi per i cittadini sia augurata una studentessa Non ci sono molte persone sui 20 o 30 anni, dice un uomo d'affari quindi penso che non potremo cambiare il nostro paese se non spingiamo a votare questa fascia d'età il più possibile Il presidente Yeon era stato eletto nel 2022 con il margine di vittoria più esiguo in qualsiasi elezione presidenziale sconfiggendo Liam Young del Partito Democratico con appena lo 0,73% il suo indice di gradimento rimane tuttavia basso sullo sfondo di una grossa avvertenza dei medici di un'impennata dei prezzi, in particolare dei prodotti alimentari e di estese accuse di corruzione che potrebbero creare problemi al partito potere al popolo del presidente Intanto gli esponenti e sostenitori del principale partito di opposizione in Corea del Sud il Partito Democratico hanno esultato guardando le proiezioni dei primi exit poll Il Partito Democratico ha un piccolo partito alleato assieme al quale dovrebbe ottenere fino a 197 seggi nell'emiciclo di 300 posti, mentre il partito potere al popolo del presidente e i suoi alleati dovrebbero assicurarsi tra gli 85 e 99 seggi un numero molto inferiore in confronto ai 114 che detenevano nel precedente Parlamento Infine il partito Reform Korea, recentemente lanciato dall'ex ministro della giustizia Cho Cook dovrebbe ottenere tra i 12 e i 14 seggi Grazie a tutti